Consigli. Durante i prelievi di contanti controlla che nessuno ti stia osservando e copri con la mano la tastiera mentre digiti il codice PIN. Porta al seguito il numero telefonico per bloccare la carta di credito o il bancomat in caso di smarrimento o furto. Controlla periodicamente che i pagamenti tramite la carta di credito o il bancomat corrispondono alle stesse che effettuato così da evitare le clonazioni e i prelievi anomali. Attiva i servizi informativi delle banche che permettono di ricevere sul tuo cellulare un sms per ogni operazione eseguita con carta di credito o bancomat. Quando effetti i pagamenti con carta di credito nei negozi o nei ristoranti fai in modo di essere presente durante l'operazione per evitare che vengano trascritti dall'operatore i numeri identificativi con cui è possibile eseguire operazioni su internet anche senza avere fisicamente la carta di credito al seguito. Distruggi o conserva il luogo sicuro le ricevute dei pagamenti eseguiti con le carte di credito.